Non è stata una settimana facile. Per nessuno. Parola di Sergio Ramos, presente in sala stampa al Ricco Perez ad Alicante in vista della gara tra la Spagna e l'Albania. Si sono mescolati politica e calce, è il primo errore. Ho ritenuto opportuno non parlare prima per parlare e farvi parlare con il tecnico Epique. C'è un bel gruppo. Qui, ma noi siamo gente di calcio, e dobbiamo tenerci al margine di queste cose. Per noi l'importante, deve essere andare al mondiale. Epique. Abbiamo un'ottima relazione. Sentiamo, ognuno di noi, il diritto di pensare ciò che vogliamo, ma poi remiamo sempre nella stessa direzione. I fischiapique. È libertà d'espressione, non posso chieder loro niente. Non posso obbligare qualcuno a fare, o non fare qualcosa, ma chiedo semmai di pensare alla squadra, alla seleccion. Il messaggio del re. Capeau, impeccabile, necessario per gli spagnoli. Grappula. 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 Grazie a tutti